Stavolta la mia relazione sui fondi sull'immigrazione sarà una comunicazione di qualcosa che deve essere a conoscenza dei sindaci che immagino non tecnicamente prepareranno i progetti cosiddetti FAMI, cioè i fondi per l'accoglienza ma che devono sapere che grazie al lavoro di Anci nazionali saranno coinvolti nella redazione dei progetti anche le Anci regionali che in un primo momento erano state escluse da questo percorso. Questo permette ovviamente ai sindaci di rivolgersi a una struttura che conosce in maniera forse più approfondita o comunque vada che è in grado di recepire anche istanze territoriali più approfondite e di mettere insieme sinergie dello stesso territorio coinvolgendo appunto le Anci regionali. È quindi giusto, forse parlo anche perché essendo Presidente dell'Anci Toscana mi fa piacere molto questo tipo di percorso che all'interno delle relazioni nel sistema Anci ci sia su questo tema specifico una capacità di apportare un contributo significativo da parte delle Anci regionali e l'invito che io faccio appunto è ai sindaci che sono interessati a recepire questi fondi europei di passare attraverso anche le loro strutture regionali.